Abissato successo della prima edizione con l'ottimo riscontro di critiche e di pubblico, la Residenza d'Artista L'Idola Fortuna, il progetto di durata triennale, mira promuovere e sostenere il lavoro di giovani artisti invitati a confrontarsi con le peculiarità artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio marchigiano. L'evento, ospitato a Fano dal 16 al 29 maggio, è stato curato da Caterina Angelucci e Luca Zuccala, che hanno selezionato quattro tra i migliori talenti del panorama nazionale e internazionale che si sono distinti per la qualità del proprio linguaggio nell'ultimo decennio. Sabato scorso, a conclusione del periodo di permanenza, il piano nobile di Palazzo Montevecchio è stato aperto al pubblico che ha potuto incontrare gli artisti e vedere i lavori realizzati. Chi sono gli artisti selezionati e quali sono i temi al centro di questa seconda edizione? Allora, gli artisti selezionati quest'anno sono Andrea Martinucci, classe 1991, che vive tra Roma e Milano, Nicolo Cecchella, classe 1985, vive tra Reggio Emilia e Roma, Caterina Ricascianta, 1986, viene da Torino, e Davide Serpetti, che vive tra L'Aquila e Los Angeles, 1990. I temi di quest'anno ricalcano quelli dell'anno scorso, ma naturalmente sono filtrati attraverso le personalità e le ricerche di questi artisti, a cui nella mostra finale di restituzione che si svolgerà a Fano ad agosto. Si uniranno altre tre personalità artistiche, che sono i tre pittori invitati nella prima edizione, quindi Sophie Westerling, Oscar Contreras Royas e Jing e Dong, a cui si uniranno a loro volta Danny Avidan, appunto lui è nato in Jamaica, ha vissuto in Israele e è cresciuto a Berlino, che ha scelto come luogo di elezione per il suo lavoro Le Marche, la provincia di Pesaro Urbino e infine Silva Mariotti, artista appunto con un background internazionale ma che viene da Fano. E qual è l'obiettivo del progetto? L'obiettivo del progetto è portare l'arte contemporanea Under 35, quindi gli artisti emergenti ma con un background già affermato a livello internazionale nella nostra provincia, perché appunto sia io che Luca Zuccala riteniamo che Fano sia capace di poter accogliere questo tipo di novità. In fondo la residenza d'artista Lido La Fortuna, promossa dall'associazione Lido Contemporaneo in collaborazione con il Comune di Fano, è una novità per il nostro territorio e sicuramente è un modo per intestare un dialogo con quelli che sono i centri della contemporaneità, quindi Milano, Turino, Roma e portare insomma in luce il nostro territorio. Il risultato della residenza sarà presentato nel corso di tre esposizioni che si terranno nei prossimi mesi a Fano, Pergola e Milano. Lo scorso anno è stato un grande successo, grande partecipazione, artisti molto bravi, ma quello che è bello, il valore che porta è questo ritrovo di giovani che poi contaminano e c'è la presenza e la partecipazione di tanti altri soggetti che sperimentano, valorizzano il nostro territorio, artisti che dialogano con la nostra storia, con le nostre emozioni, i nostri sentimenti, con il nostro ambiente, la nostra natura, il mare e tutto questo poi si riproduce in una mostra che verrà proposta nel mese di agosto e devo dire anche l'incontro con gli artisti dei giorni scorsi, è stato un momento di grande partecipazione di tantissimi giovani e anche tanta gente non solo di Fano, questa è la dimostrazione che la cultura ha un grande potenziale e Fano si sta caratterizzando sempre più anche per l'arte contemporanea sicuramente a livello regionale.